Amici del mondo social, eccoci per questo momento di confronto. Oggi ho avuto modo di seguire come attività giornalistica il presidente, l'ex premier, l'attuale presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, all'arrivo nella città di Corigliano Rossano. Ho colto alcune impressioni, c'è stata una certa vivacità, anche entusiasmo nell'avere accolto un uomo che ha svolto un ruolo di primo piano in Italia. Ho avuto anche modo di notare alcune presenze all'interno delle persone che erano lì, c'è chi è iscritto, chi è simpatizzante, ma c'era anche una fascia sociale che era di, come senso un po' di gratitudine rispetto magari al provvedimento che è relativo al reddito di cittadinanza. Uno strumento che, ribadisco, è nato o era nato come sostegno e supporto a chi non ha nulla per incanalarlo nel mondo del lavoro attraverso dei corsi di formazione. Poi nel corso del tempo si è trasformato in altro, non certo per colpa o per spirito della norma, ma per gli organismi di controllo da un lato e attuativi dall'altro. E quindi c'è questo senso di riconoscenza da parte di chi non ha nulla ed era lì ad incitarlo, ad osannarlo, una parte che mi ha colpito moltissimo dal punto di vista umano. Io non sono tra quelli che sostiene l'idea secondo cui il reddito di cittadinanza sia un sussidio, sia un intervento assistenzialista. Credo però che in questa fase sia un intervento importante. Io continuo a ritenere indispensabile questo strumento, ovviamente qualora lo Stato dia seguito a quello che dice la norma, quindi corsi di formazione e incanalare per l'appunto nel mondo del lavoro coloro i quali usufruiscono, hanno diritto al reddito di cittadinanza. Uno strumento importante verso cui le forze dell'ordine attuano attività di controllo per i furbetti, per chi magari non ha diritto, ma su questo versante io credo che bisogna anche dare delle risposte a quegli imprenditori che accusano un po' il colpo circa il perché non riescono a trovare maestranze dopo o imputando responsabilità al reddito di cittadinanza. Credo che molti no a questi datori di lavoro, alcuni in buona fede, altri magari tendono un po' di speculare, come è successo anche in passato, come continua ad accadere in realtà. Ma questo è altro argomento. Credo che molti no di chi usufruisce del reddito di cittadinanza siano attribuibili non al fatto che assumano il reddito di cittadinanza, ma perché temono poi eventuali denunce, perché ci sono dei controlli. E allora noi dobbiamo lavorare proprio su questo senso di responsabilità, e cioè che un cittadino che assume il reddito di cittadinanza, se fa qualche lavoro di arrotondamento, credo che non si debba stare addosso a questi cittadini. C'è non altro per consentirgli di poter vivere, in attesa che eventualmente il governo possa dare realmente attuazione a quello che è lo spirito della norma. Poi ci sono state anche altre situazioni che in qualche misura qualcuno mi ha contestato come attività giornalistica, quando ho chiesto, ho fatto una domanda specifica all'ex premier sul tribunale di Corigliano Rossano, poi soppresso. qui sostenevo e continuo a sostenere che, nonostante fosse la riapertura dei tribunali nei programmi del Movimento 5 Stelle, e nonostante, qui c'è stata un po' l'accusa, l'impegno della scutellata parlamentare del territorio nel voler riprendere questa questione e tentare di riaprire questo tribunale. Il Presidente Conte ha risposto in maniera generica, parlando dei tribunali di prossimità nella sua complessità, facendo riferimento che il Ministero deve rivedere, eventualmente il Ministero della Giustizia, la geografia giudiziaria, di inserire i presidi importanti in ipotesi di riapertura. Perché dico che in parte qualcuno mi ha contestato? Perché ho posto la domanda all'ex premier Conte relativamente all'impegno della scutellata. Ecco, per quanto mi riguarda, lo confermo. La scutellata si è impegnata sul tribunale di Rossano, questo non possiamo non negarlo. Ho contestato il metodo. Come si è impegnata? Io ero dell'avviso che bisognava, per esempio, aprire, con gli ex amici del GAV, bisognava aprire un fascicolo per capire chi ha detto bugie in questa partita, chi è ricorso a delle falsità in questa partita del tribunale di Rossano, le famose carte false. Bisognava aprire un'inchiesta parlamentare, per fare chiarezza, per poi, gradualmente, di conseguenza, arrivare poi alla ripertura per un atteggiamento che si configura come dolo e non come revisione, così come è stata fatta passare, o per carichi di lavoro o per altre stupidaggini che si sono inventate. Tanto è che quando, nella fase topica in cui fu poi soppresso l'ex tribunale di Rossano, si ingigantì di tutto e di più, sostenendo la tesi secondo cui l'attuale tribunale di Castrovillari avesse gli spazi per ospitare tutta l'utenza dello Ionio, queste storie, queste cronache, ancora oggi mi risulta che addirittura il presidente, l'attuale presidente del tribunale di Castrovillari, sia stato costretto a chiedere una stanza all'ordine degli avvocati che ha poi concesso per tenere l'udienza. Questo per dimostrare, anche se siamo sotto Covid, questo per dimostrare che poi tutti questi spazi, in un tribunale su cui era posta anche in discussione l'agibilità di quel presidio ritenuto nuovo, tutte queste cose non sono mai venute a galla. Quindi contestavo e contesto una condotta che ha a che fare con una questione etico-morale di quella gestione dei tribunali. Però che non si sia impegnata, ecco, questo assolutamente non mi sento di affermarlo. Grazie, alla prossima. Grazie.